Musica Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qua sul canale di Battle4Games Oggi siamo qua con un nuovissimo video di Battlefield 4 Proprio così, alla cazzo di cane Per portare un nuovissimo video sul canale di Battlefield Disto che è veramente un po' di tempo che non lo facciamo Siamo qua sulla mappa di Asshadio Shanghai con l'L85A2 penso Oh mio dio qua c'è un nemico Incredibilmente va anche l'audio Perché le ultime tre partite che ho fatto prima C'era il bug dell'audio che c'è dall'ultimo aggiornamento Che c'è stato in Battlefield 4 Che come ben sapete toglie completamente, cancella l'audio del gioco Ed è una rottura di palle totale, proprio assurda In questo server è tornato quindi buono direi Almeno ci avete un sottofondo decente nel video Questo, questo mi ha ucciso, ci sta dai Speriamo di fare, ah la modalità è D'acqua c'è squadroni per cambiare un po' dal solito Con questa grande o dominio Su Asshadio Shanghai è veramente una modalità Ottima da giocare perché Questa zona di mappa che hanno preso In questa modalità Mi piace veramente tanto Questo qui l'ho ucciso completamente a culo Da ti rianimo? No, non ti rianimo perché sei già morto Allora, se non mi uccidete ricarico Solo se non mi uccidete ovviamente Dai, allora Torniamo con i video Proprio alla cazzo di cane totale Come eravamo una volta Se trovassi nemici però Allora, c'è un casino No, no, non mi ucciderete No, non l'ho rianimato Allora, con calma Mi raccomando, ragazzi Iscrivetevi anche alla pagina di Facebook Ve lo volevo dire già dal video del conosciamo Che però mi dimentico tutte le volte Mi raccomando, iscrivetevi anche alla pagina di Facebook Perché In quella pagina lì Io e Dele lasciamo sempre gli aggiornamenti Di cosa succederà sul canale Quindi Molto importante Mi raccomando, seguiteci anche su Facebook Quattro volte che ce l'ho già detto Intanto continuiamo con il video gameplay Molto Fatto proprio Così Perché ne avevo voglia Allora, l'L85 È un'arma che Non è overpower Di più Cioè, è una cosa Saperla usare Saperla usare E non lo smirare Soprattutto che per me Allora Qui c'è uno Succhia Headshot Perfetto Adesso vado lì Mi curo Perché sto morendo No, non devo ricaricare Veloce Curati Muoviti Allora Con calma Torniamo giù Vediamo di Fare Un gel giro Da questa parte Sì, vado di qua E vado su Dite che mi uccidono tutti Prendi no Vai veloce Dai, dai, dai Tanto lascio Un kit medico Sulla scensore Così Tutta la gente che passa Sicura E io mi faccio Dei bei puntazzi Allora Vai, vai Secondo me mi uccidono Qui ci sono i camper Fuori Fucchia ti ho ucciso Quanti c'è nessuno Secondo voi Vado qua Allora Lagga Perché lagga No, non c'è nessuno Sul tetto Incredibile Secondo me Però Qua No Sono caduto Deficiente Sono un Lol Caduto nel punto giusto Nel momento giusto Questo che mi uccide Non mi ha ucciso Su No, vai a tasto Hit medicati Ragazzi È un casino più totale C'è una granata Sono Nella merda E questo No 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 Se l'avevo lì da dietro Mi hanno ucciso Che stronzi No Non uccidetemi No vi giuro Che se non mi uccidete No Luca No No Mi ha ucciso Non è possibile Dai ragazzi Non uccidetemi Io sono un bravo ragazzo Scusate Cosa ho fatto di male Per morire Sì Adesso vado Non ci posso credere Questo qui L'ho cannato In una maniera Paurosa Sì Su Ho tirato una granata In faccia Lol Proprio Lol Mi aveva quasi ucciso Questo qui Allora Di coppia Vediamo C'è della gente No Allora No Tutti i colpi Deficiente Prossima volta Ricarichi poi Dov'è Sì Ottimo Ahia E questo Non ci posso 2% di vita Aveva questo Non ci posso credere Mi fanno incavolare 11-7 ragazzi 11-7 11-7 Stasera ho i riflessi Incredibilmente Ho i riflessi Stasera E questo Mamma mia Tieni Tieni Mico C'era un kit medico Allora Mi sto curando Poi Vediamo 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 Dove sono i nemici Nella mappa Sono dall'altra parte Perché Sì Lo rispondo All'altra parte Adesso Vediamo Di non farci Inchiappettare Tipo da di fianco O da dietro Facciamo uno qui Oh Vai avanti No Mi sto incasinando Mi sento che Morirò Morirò di sicuro No Mico Aspettami Vaffanculo Allora vado dall'altra parte Ecco Sono morto Perfetto ragazzi Va bene Non è finita Ah Dura più di 101 Di 101 Uccisioni Quanto siamo 102 Quanto mancherà Ah forse dura 150 Vabbè meglio così ragazzi Così durarmi più Questo video Questo video sclero Vai Quello lì È un Una roccia Allora Questo Sì Dove cavolo Dove cavolo Era di fianco Ma Perché io dico Quando mi Mi chiedo Dove cavolo È il nemico È sempre di fianco Non è possibile Allora Allora Vediamo Non è possibile Perché ci deve Perché la gente Deve usare L'AC23 Che è troppo Baggata Quell'arma Non è possibile Ragazzi Comunque L'L85 Lo sto usando Ve lo faccio vedere Anche con Ho sbloccato qualcosa Un mirino Interessante No Allora La canna pesante L'impugnatura Angolata E il reflex Questi accessori A me Sembra veramente Utilizzabilissima Proprio al massimo Al cento per cento È stabile Molto stabile Poi se imparassi A fare le raffiche Come ho detto prima Sarebbe ancora più stabile Ma molto più stabile Adesso ci provo Vediamo di Adesso è soppressione Vabbè È che per me Quando vedo un nemico È impossibile Ti arri in animo Amico Se non muori subito Per me è impossibile Fare le raffiche Cioè È troppo di complicato Quello lì È un cadavere Che si muove Cos'è sta storia I cadaveri Si muovono Sì Questo qui Ho smirato In una maniera Paurosa Va bene ragazzi Siamo quarti Incredibilmente Siamo quarti Uno dei video Pi lunghi Vi batto Fil sul canale Alla fine Pensavo fosse uno Dei più corti Io Questo qui è morto Intanto Vediamo di No Questo no Ci stiva una granata Allora lì Quello lì Si Mi hanno ucciso Perfetto ragazzi Vai 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 Se riusciamo Arriviamo secondi Una lotta Per il secondo posto Mi hanno rianimato Sono morto Subito Mi rianimo E non muoio Subito Sempre qui Non va bene Quando la gente Capirà Che quando Ti rianima Deve guardare Se in giro Ci sono dei nemici Non rianimare Così a caso A caso Alla cazzo Mi piace dire A me Dio Mamma Andata bene Andata bene Anche molto Ricarica St'arma Veloce Dai Su Allora Vediamo qua Guardiamoci intorno No Sono troppo esposto E' finita la partita ragazzi Mancano 10 kill Le dobbiamo fare Abbiamo vinto Si li abbiamo stuprati Praticamente Questo è morto 140 A 92 Praticamente Li abbiamo si Stuprati Proprio Dalla testa Ai piedi Questo è amico Meglio che non gli spariamo Gli antiquati Seguo amico Mancano 5 kill ragazzi Se trovassi dei nemici Io ne faccio anche altri Volendo Di kill Ma non troppo E' finita la partita ragazzi Perfetto Siamo anche in positivo 18 13 Mamma mia Miglior partita sul canale Incredibile Va bene ragazzi Se il video di usare Mi sto incasinando Impapinando Se il video vi dovesse essere piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Per supportarci al 100% Commentate qui sotto Se vi è piaciuto questo video E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Un saluto da Carlo Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti